Pressioni positive, eravamo un po' stanchetti all'inizio ma comunque siamo riusciti ad affrontare il match in modo equilibrato perché comunque abbiamo ruotato molto e siamo stati bravi secondo me a mantenere comunque l'intensità alta nonostante il lavoro che stiamo facendo che è comunque molto intenso quindi molto positivo. Con l'intensità che stiamo utilizzando in allenamento che è molto alta credo che si sia comunque visto oggi che abbiamo comunque mantenuto il ritmo costante dal primo all'ultimo minuto ed è quello che cercheremo di fare comunque tutto l'anno. Iniziare così è assolutamente fantastico comunque perché comunque siamo in una città diciamo siamo in montagna e trovare 500 persone che ci vengono a vedere la prima partita non è facile, è successo, è successo anche l'anno scorso e gli anni prima il pubblico comunque i tifosi della Reier sono molto appassionati quindi siamo contenti e siamo fortunati ad avere loro come tali.